Le guardie direbbero che vivo in un'unità di isolamento amministrativo. Fino ad appena sei mesi fa sono stato in isolamento, in una cella da solo, per quasi due anni. Non sanno che farsene di me qui. Esatto, non sanno che farsene di me qui. E non mi interessa. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS